Tutti amiamo i nostri figli e desideriamo che abbiano successo nella vita. Ma stai alimentando tuo figlio con una dieta nutrizionale corretta ed equilibrata? Problemi ambientali stressano silenziosamente il metabolismo di tuo figlio. Lo stress elettromagnetico da wifi o telefoni cellulari riducono il benessere di tuo figlio? Le differenze genetiche di tuo figlio determinano una variazione nel fabbisogno alimentare. Lo sapevi? Potrai conoscere le risposte. Ordina il report epigenetico personalizzato di tuo figlio. Servirà solo un tampone di saliva. Non rimandare. Ottimizza il benessere di tuo figlio oggi stesso. Contattateci per scoprire il pass del benessere fisico, mentale ed emotivo. Chiedi il centro di riferimento più vicino a te e inizia a camminare sulla strada della consapevolezza del benessere per la vera prevenzione. Oggi, in soli 15 minuti, puoi scoprire fattori che potrebbero condizionare il tuo stato di salute e benessere. Chiama il 0187 17 80 859 oppure il 393 91 42 000 oppure scrivi a info at epinutracel.it Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.